Inizia il nuovo mese, quello di febbraio 2019, salve a tutti, oggi è il 4 ed è lunedì, iniziamo con 10 minuti, nei minuti pari faremo 5 più 5 weighted kettle squat e nei minuti dispari 10 ring roll out, a seguire on the minute per 20 minuti, quindi un emon 20 minuti costituito da 5 round con 1 minuto, minuto 1, 15 oppure 12 calorie raw, in minuto 2 3 deadlift, in minuto 3 20 wall ball e in minuto 4 rest. Pese e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, a domani per un'altra puntata e un'altra classe, un altro WOD su CIPER TV. Ciao, buona giornata.